Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Snake Plisken che mi chiede di parlare del film di Richard C. Serafian del 1971.0 rimasto famosissimo da noi perché la macchina utilizzata in questo film per fare la fuga del nostro protagonista Kowalski è la stessa utilizzata da Tarantino nel grandissimo A prova di morte film 1971 narra la storia di questo Kowalski, ex poliziotto, ex veterano del Vietnam completamente drogato che praticamente trasporta macchine da uno stato all'altro e quindi nonostante il capo non sia d'accordo decide di trasportare questa macchina da Denver fino alla California la macchina è la classica Dodge Challenger appunto del 1970 il nostro è anche un ex pilota che era un grandissimo pilota di auto da corsa che ha avuto la ragazza morta praticamente in un incidente di surf lo scopriremo attraverso il suo viaggio perché è proprio un viaggio non derodo completo del nostro praticamente che seguito a un certo punto da quattro tipi di polizia di quattro stati diversi si deve attraversare veramente tutta l'America in un certo senso alla velocità della luce facendo incontri tra i più assurdi in tutto questo viene aiutato diciamo così il ripovedente nero che lavora nella radio Super Soul che manda in onda praticamente le onde radio della polizia il nostro lentamente diventa in realtà una specie di idolo per tutti quelli che sono anarchici e contro la cultura di un certo tipo di perbenismo, un certo tipo di America un certo tipo di idea appunto che vuole schiacciarti dietro la sua forza e via dicendo quindi un film anarchico che porta avanti questioni neo-hipi e via dicendo fantastico poi l'incontro con l'hipi con lei in motocicletta che è veramente nuda è una scena spettacolare dove parla con lui tranquillamente con un grande protagonista Barry Newman mentre nel ruolo di Soul troviamo quello che poi sarà il grande protagonista di Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco di McBrooks ovvero l'ottimo Cleveland Little è un film che nonostante abbia delle cose molto interessanti proprio a livello di discussione dell'epoca quindi un reperto d'equa molto intrigante sono alcune cose un po' invecchiate come è chiaro che sia però è un film che rimane tecnicamente a livello di inseguimenti di macchine quasi irraggiungibile cioè la macchina appresa viene ripresa in modi assolutamente originali nonostante sia chiaro il riferimento a Easy Rider, la fuga l'idea appunto di non essere più parte di una società che sembra non volerti nemmeno dentro la stessa il film riesce a funzionare proprio perché ha una fotografia magnifica un bellissimo montaggio di Stefan Einstein a grande colonna sonora che va da Gini Raid fino a Emonte in passata insomma per il rock del periodo e riesce a donare il giusto ritmo a una pellicola come ho detto ben recitata con degli interessanti momenti e poi la storia appunto del nostro che fa a gara e fa a scozzo con questo qui buttando giù Benzadrina e partendo alla riscossa appunto su questa strada inseguito poi sempre da chiunque è una storia basilarissima una storia che all'epoca comunque ne facevano tanti film di questo tipo ma questo film comunque a livello proprio di tecnica, di inseguimenti in macchina non è invecchiato nemmeno per un secondo una fuga come ho detto anarchica contro ogni tipo di controllo e quindi è il viaggio del nostro che passerà dal Coloredado, la Utah, il terribile Nevada per una sequenza più bella dell'altra in realtà ripeto con un finale tragico e incredibile per un film che appunto racconta la storia di un uomo che scappa ma la racconta attraverso il genere pure adesso adesso il film si ricorda assolutamente per le correzze in macchina che sono vicinissime a quelle di Bullet e di altri grandissimi film ovviamente una cosa impressionante a livello tecnico Seraphian dimostra di avere un'idea appunto della messa in scena sulle automobili che poi raramente si è evidente, diventa spettacolo questi meravigliosi spazi, questa idea delle riprese delle macchine insomma in mezzo a questi deserti, in mezzo a queste città con dei personaggi sempre più assurdi e con un modo di fare che comunque ripeto a tuttora a livello tecnico è modernissimo non è invecchiato di un giorno certo quello di cui parla è un film d'epoca quindi tutta la discussione anni 70 sul Jeep e sulla cosa sembra ormai un po' datata forse retorica ma riflette comunque perfettamente una specie di Polaroid, una specie di foto ingiallita comunque ripeto del periodo bello l'uomo e il vecchio che captura serpenti che lo aiuterà così come ho detto come la ragazza nuda sulla moto che è un'apparizione mistica quasi un film sicuramente con i suoi difetti un film sicuramente non perfetto però riesce ad avere una bella interazione fra i protagonisti dove comunque il personaggio principale resta la nostra Dodge dove le riprese sono la cosa più importante e la macchina l'ha presa appunto svolazzali qua e di là attraverso le corse in posizioni assurde messa in modo totalmente unico ed originale che protetta avanti appunto l'idea appunto dell'inseguimento l'idea della macchina in scena dell'automobile in modo assolutamente totale quindi un film per me da non perdere un mio caldo assoluto così come l'era di Tarantino e di tantissimi altri Kowalski del quale neanche conosciamo il nome in realtà è quasi un archetipo di ciò che dovrebbe essere un'America distrutta un'America distrutta da una guerra distrutta dal perbenismo un'America distrutta dalla voglia di non cambiare e tutto questo però viene filtrato attraverso quello che è il vero ripeto motore appunto portante del film che è l'automobile e tutte le peripezie che il nostro ci fa sopra del finale ripeto è incredibile gli ultimi due minuti sono dolorosi e stranissimi remake e venisce in point poi fatto con Vigo Mortens e mi pare di bassissimo valore per un film come questo che comunque sicuramente non è un capolavoro non è un grande film ma merita di essere stravisto perché è un caldo assoluto e perché ha degli inseguimenti in macchina che ancora oggi ci si sognano il link di punto zero è qui sotto donatevi su Patreon mi piace iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su Youtube seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia ripeto questo punto zero è uno di quei classici film che quando uno li guarda non può fare altro che adorarli amarli in un certo senso sono talmente amanti a livello di ripresa e sono talmente interessanti come storia tantissimo dell'America e soprattutto racconta un'altra volta come il cinema possa essere anche interazione spettacolare attraverso solo un'automobile che corre alla velocità della luce